3, 2, 1, andiamo! Bene, ha preso via il campionato italiano AXI per i veterani. AXI per i veterani. AXI per i veterani. AXI per i veterani. Alla fine è subito dal primo giro, poi è diventata dura sui quattro giri che facevamo uno strappo di 800 metri, alla fine è andato via un corridore che era a 20 secondi, siamo rientrato sulla discesa, in cinque corridori ci siamo giocati la corsa in volata. Il percorso è stato selettivo o il punto giusto? Beh, è stato selettivo perché alla fine sono venuti fuori 900 metri di dislivello per una corsa di 80 km, non è proprio poco, non era una salita impegnativa però una salita che faceva male le gambe. Risultati quest'anno? Beh, risultati ho vinto 15 corse finora con il campionato italiano, poi ho vinto tutte e tre le maglie a cronometro individuali che sono svolte a Occhiobello in provincia di Rovigo e sono molto contento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!